Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi ci immergiamo nella storia avvolta nel mistero di Roberta Ragusa, un caso che continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Ci focalizzeremo sulla sparizione di Roberta e sulle circostanze misteriose che circondano quella che è considerata la sua tragica fine. Questa storia è contrassegnata da un processo giudiziario ricco di indizi, che ha portato alla condanna di Logli, individuato come l'unico responsabile. La scomparsa di Roberta, avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, rimane un enigma. Descritta come una madre esemplare, la sua assenza da San Giuliano Terme ha lasciato un vuoto incolmabile. Nonostante le pesanti accuse, i suoi figli, Daniele e Alessia, non hanno mai smesso di credere nell'innocenza del loro padre. Daniele, in particolare, ha sempre difeso strenuamente il padre, sperando in una possibile revisione del processo. Di recente, è stata pubblicata una lettera da Daniele sul settimanale I Giallo, indirizzata al suo legale. In questa lettera, Daniele condivide i suoi ricordi e le sue esperienze legate a questo caso che lo hanno segnato fin da quando aveva 15 anni. Racconta di come suo padre accettò di sottoporsi a un esame fisico da parte dei carabinieri, un evento che si è svolto nella loro cucina, subito dopo la scomparsa di Roberta. Daniele spera che le sue testimonianze possano gettare nuova luce su questo complicato caso.